Come fare i primi tuoi 1000 euro online? Io posso dirti che puoi farli veramente in tantissimi modi puoi farli con le piattaforme scam puoi farle magari investendo in cripto avendo culo puoi riuscire a guadagnare pure più di 1000 euro puoi farle veramente in qualsiasi modo ma il punto è riesci a fare 1000 euro tutti i mesi questa è la cosa più complicata questa è la cosa più complessa da fare e non tutti ci riescono io ti posso dire che faccio questo lavoro da 10 anni riesco a guadagnare anche più di 1000 euro al mese se no veramente avrei fatto una brutta fine perché con 1000 euro non ci campi io sono riuscito a guadagnare anche più di 2000 di 3000, di 4000 anche più di 5000 euro al mese solo ed esclusivamente grazie al mondo online ma tutto questo come è possibile? bisogna mettere i puntini sull'e perché in giro ci sono tante cazzate va bene che puoi guadagnare con questa piattaforma puoi guadagnare con free cash ho portato un video su questa piattaforma dove puoi guadagnare quei 10 euro, 20 euro, 30 euro al mese se ti va bene ma chi vuole lavorare online chi vuole realmente svegliarsi la mattina avere il suo computer per poter lavorare online devi impegnarti partiamo da questo presupposto perché è così come si possono generare questi 1000 euro online? i primi 1000 euro in un modo estremamente semplice semplice non vuol dire facile semplice vuol dire che c'è una strada da seguire che ti può permettere poi di guadagnare questi 1000 euro in che modo puoi generare questi 1000 euro? la prima cosa fondamentale che devi fare è imparare a fare qualcosa scendi per strada guardati intorno osserva i negozi osserva il mercato come funziona? funziona in questo modo c'è sempre una domanda e c'è sempre un'offerta c'è sempre chi dà c'è sempre chi riceve in questo mondo devi imparare a dare qualcosa alle persone se riesci a dare qualcosa alle persone se riesci a risolvere un problema delle persone puoi ottenere in cambio del denaro punto questa è la realtà in questo modo gira il mondo quindi chiedi a te stesso cosa so fare non sai fare niente? ok in questo video ti dico un modo due modi che ti possono comunque permettere di guadagnare questi primi 1000 euro lavorare online equivale a lavorare tre volte offline se vuoi guadagnare online subito veloce veloce 400 euro subito lo fai trovi un call center ci perdi tutta la giornata perché poi devi lavorare tutta la giornata e successivamente a fine mese se tutto va bene ricevi quei 400 euro sempre se tutto va bene nel mondo online è ancora più difficile nel mondo online devi sapere come muoverti ok? perché sei tu e il tuo computer non c'è nessuno che ti dice fai questa cosa qui e dopo ti do 500 euro no non funziona così ok? quello che puoi fare e quello che ho fatto io è questo impara a fare qualcosa la prima cosa che puoi imparare a fare è creare siti web creare e-commerce questo perché te lo dico te lo dico per esperienza io non sapevo creare un sito web io non sapevo creare un e-commerce ultimamente mi sto addentrando in questo mondo e sto scoprendo che ho un mondo fantastico a me piace assai vi parlo di questa competenza perché c'è veramente molto da fare con un po' di impegno si può riuscire ad imparare a creare siti web e-commerce per negozi per aziende ad esempio io quello che ho fatto ultimamente è creare un e-commerce per una pasticceria non so se avete visto l'ultimo video ma racconto tutta la mia esperienza in questo mondo di come ho imparato di come ho trovato i clienti dei fallimenti dei dubbi e di come poi alla fine sono riuscito a guadagnare tramite questa competenza eppure faccio lo youtuber eppure parlo di tutt'altro non era il mio mestiere creare siti web ma quello che ho fatto è imparare a farlo almeno da principiante ok? non da esperto sono ancora un principiante come tante persone mi dicevano su TikTok non puoi dire di saper creare siti web se non sai programmare quelli sono cretini non li pensare perché tutto si inizia con il poco io non posso già pretendere di essere un grandissimo programmatore anche perché oggi giorno ci sono tanti strumenti che ti permettono di creare un sito web un e-commerce in un modo estremamente semplice non devi saper programmare a differenza di quello che dicono tanti scienziati che vogliono sentirsi superiori perché loro sanno programmare e dopo poi hanno scoperto che tutto si è reso semplice non c'è bisogno di saper programmare per creare un e-commerce semplice per creare un sito web semplice anche se comunque puoi creare anche cose più complesse senza saper programmare quindi la creazione di e-commerce di siti web può permetterti di guadagnare ma se finisci di guardare questo video e non fai un cazzo non guadagnare mai ok le persone che realmente fanno un qualcosa spengono il video e si mettono subito in azione tu magari guarderai mille di questi video e non farai mai un cazzo quindi quello che devi fare spegni questo video vai alla ricerca subito di video che ti possono formare su questa cosa come creare siti web come creare un e-commerce su youtube è pieno è pienissimo inizia mettiti in gioco provaci nel momento in cui ci provi cerchi di formarti sulla questione come trovare clienti come trovare persone aziende negozi a cui creare comunque questi siti web ti sto dicendo questo perché ho fatto esperienza su questa cosa non ti posso parlare di un qualcosa che non ho fatto prossimamente dovrò fare un sito anche ad un barbiere quello che io sto facendo è contattare inizialmente gli amici che c'ho intorno ok le persone che già conosco oppure chiedo ai miei amici senti conosci un negozio di abbigliamento un negozio di scarpe un negozio che può avere bisogno di uno store online lo conosci perché se lo conosce magari è amico magari sei amico può parlarci più in un modo confidenziale è il proprietario del negozio può essere più propenso ad ascoltare quello che c'ha da dire e io posso propormi in un modo più facile almeno inizialmente perché? perché inizialmente dovrò fare magari un e-commerce un sito web magari pure a basso costo va bene ci sta come l'ho fatto pure io per la pasticceria mi sono preso 200 euro a fronte di 1000 euro che tu puoi chiedere magari quando sarai uno che saprà fare le cose per bene fare e-commerce sito web inizialmente magari facendoti pagare poco può servirti per primo fare esperienza seconda cosa avere comunque un portofolio di tutti i tuoi lavori in modo tale che quando vai a parlare con quel negozio a cui vuoi chiedere magari 1000 euro potrai mostrare tutti i tuoi lavori questi lavori che tu avrai fatto in precedenza ti formeranno ok per ogni lavoro che avrai fatto imparerai un qualcosa spero solo di non stare a parlare inutilmente perché la maggior parte delle persone guardano questi video li stoppano a metà e vanno via si aspettano il metodo semplice non farete mai un cazzo nella vostra vita perdonate la schiettezza ma è così è così ho dimostrato in qualche video precedente come io sono partito da zero e non ho bisogno di partire da zero perché ho già creato quello che volevo creare ok ma la mia voglia di fare la mia curiosità mi permette di mettermi sempre in gioco e vi ho dimostrato che partire da zero è possibile senza investire un euro si possono generare soldi online ma ci vuole impegno ti devi mettere lì con la testa nel computer e devi sudare mettiti in testa che il mondo online non è una giostra non è un parco giochi dove tu scegli la giostra su cui salire e poi ti diverti ti cadono i soldi dal cielo non è così il mondo online è un inferno è un inferno non è facile non mi va di dirti altro quello che ho detto basta e avanza devi solo spegnere questo video vai su google vai su youtube cerca come creare i siti web come creare e-commerce approfondisci mettiti alla prova non devi spendere un cazzo di euro vedi un po' come funziona tutto questo mondo crea il tuo primo e-commerce per capire un po' come funziona e poi vai rischia anche se non sai da dove partire anche se ti senti insicuro non ti senti all'altezza per proporti già ad un negozio a qualcuno fallo fallo perché solo in questo modo puoi fare esperienze e puoi imparare rischiare fa parte del percorso sbagliare soprattutto fa parte del percorso consapevole che questo sarà un altro video buttato nella spazzatura per tante tante persone spero che almeno l'1% delle persone che guarderanno questo video potranno riuscire a trarre dei benefici ci vediamo alla prossima ciao